Qui siamo proprio nella... insomma nella Bolgia, perché questa è di questo fantastico rifugio che è il rifugio Coda. Lei è l'Aria, che è presente in ogni dove, il nostro amico della Romania che applaudiamo. Thank you very much, Cornelio. Good! Sta facendo un garone e qui c'è Damian Hall e qui c'è il Galattico che mangia che cosa? La piadina romagnola a lei. Non quella emiliana? No, 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 questa origine romagnola. Meglio la piadina del Coda o quella made in Imola? Quella del Coda dopo 170 km, buonissima. No, grazie mille. Qua è sempre una meraviglia. Come condizioni meteo complicato, tanto tanto caldo per arrivare al Coda, insomma il peggio del caldo fosse dietro alle spalle. Ma sì, sì, il peggio delle spalle. Siamo andati tranquilli a venire su, abbiamo gestito un po'. E martedì com'è? Martedì pomeriggio, no? Questa un po' di nuvolaglia, qualche goccia, ma starà facendo. Caldo ancora domani mattina, poi un po' di nuvolaglia. Ok, tanto dobbiamo prendere quel che viene. Questo è. Andiamo un attimo il Galattico con la sua piadina. Arriva anche una piadina made in Coda. Per Damian Hall, a te e Silvia, gli spieghi tu tutto. Yeah, there is Damian, that has got a difficult choice, because he ordered pasta, now there is piadina. It's a difficult choice, I know, no, it's a very tough choice. Maybe one of the toughest choices for today. Yes, it's very difficult to choose. Okay. Maybe both of you will be the right decision, so I will let you very soon enjoy your piadina. This is the British part of the Canadian-British cooperation, we have already spoken together with Garan. So are you planning, yeah, your pasta's here, are you planning to reach Garan that has already speeded up, or what are you going to do to enjoy your pasta and just let him go? I'll just have some dinner. Okay, very calm, so very quiet, a good atmosphere here at Rifujo Coda. I wanted to stay here a long time, really. Very, very good. So enjoy your meal, thank you Damian. Thank you. And enjoy the rest of your tour of Giang. Thank you.